Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con la cronaca. E' di poco quota sotto i 3.000, esattamente 2.916, il numero dei nuovi contagi Covid registrato in Regione, in Veneto, in sole 24 ore, 2.245 più di ieri. Si contano anche 6 vittime, lo riferisce il bollettino regionale. I nuovi casi portano il totale dei contagi dall'inizio della pandemia a 2.223.196, quello dei decensi sale a 15.418. I soggetti attualmente positivi salgono di poco a 36.133 più 46 rispetto a ieri. Migliora la situazione clinica con 508 malati di Covid in Regione, nei reparti ordinali meno 29 rispetto a ieri e 22, meno 6 rispetto a ieri, invece, in terapia intensiva. I vigili del fuoco sono intervenuti in località Palui, a Selva di Cadore, per salvare una mucca ruzzolata in uno Shanghai di alberi caduti durante la tempesta. I pompieri volontari del locale di sacramento hanno operato per circa due ore con le motoseghe, tagliando le piante abbattute, riuscendo poi a creare un varco dove il bovino, in colume, nonostante la caduta, è potuto transitare e continuare il suo pascolo in zone più sicure. E oggi i vigili del fuoco sono impegnati per spegnere un devastante incendio che si è sviluppato all'interno di un'azienda che produce prodotti cosmetici a Castel Dazzano. Le fiamme hanno interessato un cappannone di circa 1500 metri quadri di un complesso di più unità nell'azienda Berger di Castel Dazzano, adibito a stoccaggio di prodotti, in particolare bombolette spray, pronti per essere immessi poi nel mercato. Due le persone che a seguito dell'incendio hanno riportato ustioni che sono state soccorse e trasportate poi all'ospedale. I vigili del fuoco giunti da Verona hanno lavorato per cicoscrivere le fiamme del rogo già generalizzato, evitando la propagazione ai capannoni attigui. In supporto alle squadre scaligere sono giunti anche da altri distaccamenti, quelli di Caldiero e Lignago, ma anche Rovigo, Mantua, Suzzara, Vicenza e Lonigo, oltre al mezzo aeroportuale giunto dall'aeroporto di Villafranca veronese per un totale di 15 mezzi e 41 uomini addetti. Registriamo l'improvvisa scomparsa a causa di un improvviso malore dell'imprenditore Andrea Riello, figura di spicco dell'industria veneta. Andrea Riello, 60 anni, è stato presidente di Confindustria Veneto da maggio 2005 a gennaio 2009. Riello, presidente e seo di Riello Sistemi a Minerbe, in provincia di Verona, è stato stroncato da un infarto. Nato a Venezia nel 1962, laureato in economia aziendale a Cafoscari, Andrea Riello guidava un gruppo con oltre 500 dipendenti e quattro stabilimenti di produzione. È stato anche presidente della fondazione Campiello, membro del CDA di Unicredit e consigliere di amministrazione di Save S.P.A. Cordoglio che arriva anche da Mario Pozza, presidente di Union Camere Veneto e presidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno e da vari rappresentanti sindacali, ovviamente, ma anche della politica locale. La gognata battaglia al caro Bollette sta giorno dopo giorno creando vittime tra gli esercenti che sono sempre più decisi a chiudere bottega o a iniziare a proporre sul banco merce di qualità sempre più scarsa o decidere di mantenere alta la qualità ma soggiagere all'aumento delle merci come carne o beni di prima necessità. Un giro sotto il salone di Padova della nostra Giulia Tasca ha raccolto gli umori di qualche esercente ma anche di qualche idea. Vediamo. Allora, se noi dovessimo applicare, parlo per il settore carni però potrebbe andare per alimentare tutta la misura se dovessimo applicare gli aumenti che ci sono stati dovremmo veramente chiamarci delle gioiellerie purtroppo li abbiamo assorbiti fino adesso e adesso non ce la facciamo più dobbiamo, gioco forza, cominciare a ricarare i prezzi abbiamo già cominciato e credo che non si fermerà più perché purtroppo non è alzare il prezzo per guadagnare no, è per rimetterci di meno perché se vogliamo essere onesti con quello che è aumentata la materia prima e l'aumento delle spese che dobbiamo sostenere per quanto si aumenti non si riesce mai a fare un pari purtroppo questa è una situazione che andrà sempre a peggiorare e secondo il mio punto di vista io credo che per fine anno ci saranno parecchie aziende che avranno il cappio al collo non solo a livello alimentare non a livello del commercio a minuto ma anche ad altri livelli purtroppo questa è la situazione che si è venuta a creare l'unica via di scampo potrebbe essere abbassare la qualità per avere un prezzo concorrenziale ma credo che sia il più grande sbaglio che noi specialmente qui da Sottosalone potremmo fare perché siamo una realtà che ha tutte le eccezioni e abbassare la qualità non è certamente il nostro caso la gente per il momento si parla però forse non ha ancora recepito bene il discorso degli aumenti o forse li ha tra virgolette accettati sapendo e capendo benissimo che proprio questa è la situazione non ci sono lamentelle, dico la verità però vedi che la gente quello che prima prendeva 10 adesso prende 8 perché quello è il budget che è in tasca purtroppo Si sta delineando la macchina comunale di Padova per ospitare i seggi elettorali senza però stravolgere l'attività didattica nelle scuole appena avviate sono state utilizzate per le elezioni del 25 di settembre prossimo strutture già esistenti e ben strutturate per accogliere i seggi come Casa Leonardo una ex scuola un impegno che l'assessora Bengiolini ha intrapreso da circa due mesi al fine di rendere più regolare l'attività scolastica ma anche le elezioni politiche 2022 Vediamo Sono cinque anni che lavoriamo a questo obiettivo cioè sfilare i seggi elettorali dalle scuole riteniamo che il più possibile questo debba essere fatto e su questo abbiamo lavorato già nei cinque anni passati oggi il progetto continua e siamo contenti che anche a queste elezioni prossime politiche potremo sfilare dieci seggi dalle scuole e spostandoli o in scuole che già avevano dei seggi e che andranno quindi ad accogliere dei nuovi seggi ampliando il numero dei seggi totali oppure in strutture che ora abbiamo a disposizione come per esempio il cosiddetto Ex Marchesi la nuova casa di quartiere dell'Arcella su cui verranno spostati infatti cinque seggi provenienti dalla scuola Zanella e dalla scuola Rosmini Sono 850 gli studenti che continueranno ad andare a scuola o gli alunni, insomma le alunne che continueranno ad andare a scuola anche nei due giorni in cui si dovrà sospendere invece per chi ha scuola seggio e sono circa 7700 le persone, i cittadini e le cittadine che avranno il seggio spostato queste persone riceveranno a casa una lettera in modo da essere sicuri di dove devono andare e in ogni caso al di fuori dei vecchi seggi verrà segnato dove devono andare gli spostamenti saranno su scuole relativamente vicine la più vicina di tutte è la Zanella che va appunto all'ex Marchesi quindi proprio di fianco ma comunque anche gli altri spostamenti riguarderanno spostamenti molto vicini per facilitare ovviamente l'accesso al voto Abbiamo bisogno di lavorare insieme è stata la prima dichiarazione di Sergio Giordani oltre a essere sindaco di Padova ora neopresidente della provincia di Padova che ha incontrato i consiglieri provinciali per affrontare i temi più urgenti la riunione si è svolta in un clima sereno costruttivo e sono state prospettate molte questioni urgenti che saranno affrontate dal Consiglio Provinciale prossimo assenti giustificati soltanto Fabio Miotti Cristian Bottaro e Anna Barzon vediamo Com'è stata questa riunione? Tanto molto piacevole perché ho trovato colleghi che pensano tutti quanti al proprio territorio per cui a me pare logico che uno pensa a se stesso ma il contraprogramma tutti assieme ho trovato collaborazione non avevo un ombra di dubbio sarà impegnativo sicuramente anche per i tempi che ci aspettano saranno veramente difficili però come ho sottolineato e come tutti hanno confermato stare assieme risolvendo i problemi è un periodo questo particolare anche per le persone politiche per cui i prossimi 15 giorni saranno un po' ancora turbolenti ma dopo ognuno smette con la casacca politica e deve lavorare per la propria comunità noi abbiamo una provincia importante di conseguenza la logica è fare le cose assieme e sono convinto è nella mia natura lavorare assieme dopo per carità io al fine decido però collaborazione totale io penso si va ben oltre i problemi che saranno gravi perché saranno dell'energia elettrica sociale del gas del covid abbiamo tanti problemi che solo stando assieme risolvono e sono convinto di questo quindi una visione proprio molto ampia e il motivo anche per cui lei ha accettato la candidatura a presidente della provincia per avere una visione d'insieme sì ho detto prima i miei colleghi anche il fatto presidente della provincia per intanto sono diciamo che a casa mia sono molto contenti di questa idea anche nemmeno la segreteria molti collaboratori perché vuol dire un impegno molto importante però a me interessa che la provincia vada avanti bene che non siano difficoltà lavorare insieme vuol dire già risolvere tanti problemi sono tanti problemi dare via vita le scuole già collaboriamo bene per cui vuol dire collaborare ancora di più oggi al consiglio dei ministri si è data una svolta sulla questione del super bonus 110% quello edilizio grazie all'impegno e alla determinazione del movimento 5 stelle è oggi arrivata dal senato una rimodulazione del MEF che va nella direzione indicata da molto tempo per sbloccare la cessione dei crediti legati al super bonus 110% e gli altri bonus edilizi si era ormai venuta a creare una situazione insostenibile per tanti cittadini ma soprattutto per tante imprese in tutto il paese ora possono tirare un sospiro di sollievo grazie all'abolizione della responsabilità solidale per i cessionari dei crediti legati al super bonus in modo particolare le banche ed altri bonus edilizi anche precedenti al decreto antifrode si tratta di una decisione che di fatto sblocca una situazione di stallo che metteva veramente a rischio di fallimento tantissime imprese a causa delle decisioni imposte dal governo nei mesi scorsi e questo merito se lo prende anche la Lega perché grazie al determinante contributo della Lega oggi migliaia di imprese possono tornare a respirare chi ha lavorato onestamente nel rispetto della legge doveva essere tutelato l'obiettivo raggiunto è ora prezioso abbiamo sbloccato il meccanismo della responsabilità solidale trovato la soluzione che le realtà produttive del settore attendevano ormai da troppo tempo buon senso impegno premiano sempre noi abbiamo scelto di metterci la faccia e i risultati anche questa volta si vedono sono le parole espresse dai due rappresentanti della Lega Nord di Padova l'onorevole Ostellari e l'onorevole Stefano scusatemi Stefani sul passaggio definitivo di oggi sulla questione del super bonus edilizio 110% si sono dati appuntamento i sostenitori di Italexit il Paragone a Padova in Piazza delle Erbe sabato scorso un esiguo numero di simpatizzanti insieme al senatore Gianluigi Paragone per manifestare insieme contro il caro Bollette e non solo oggi Paragone si lamenta dello spazio in tv che viene concesso lo 0,21% e questa è la percentuale di spazio televisivo a cui avrebbe diritto Italexit secondo l'autorità garante delle comunicazioni l'assenzionismo è il loro principale alleato così tuona Pierluigi Paragone dai social del movimento vediamo la nostra intervista Paragone lei parla di capitalismo di sorveglianza beh il capitalismo della sorveglianza è il capitalismo che controlla le persone ma in ogni fase adesso vogliono mettere i termostat intelligenti che serviranno proprio per bloccare magari la nostra richiesta di aumentare i caloriferi perché fa freddo però un algoritmo ha deciso che il consumo di energia anche in casa deve essere limitato e parametrato si chiama lockdown energetico e non è lontano dal lockdown che abbiamo già vissuto 40% degli italiani che ancora sono indecisi a pochi giorni dalle elezioni e questo fa vesperare da una parte sì però attenzione è un segnale di una democrazia malata vuol dire che la politica ha tradito e la gente non si fida più della politica io li posso anche capire perché persone piene di entusiasmo si erano fidate di movimenti nati dal basso questi movimenti nati dal basso oggi sono affidati a uno come Conte che non è stato neanche in grado di revocare le concessioni autostradali ai Benetton dopo il crollo del ponte Morandi e quindi li capisco però noi dobbiamo continuare nella lotta perché se lasciamo vincere gli altri perché non andiamo a votare e non è che si fermano vi voglio ricordare che Speranza ha fatto sto popò di roba con un partito del 2% quindi andiamo a votare prendiamoci la nostra forza tutta e non regaliamo spazio al governo di Draghistan e di chi lo ha sostenuto ha avuto una parola di Alvetriolo così nell'appuntamento con i Padovani nei confronti della Meloni e dice è il simbolo della continuità beh sì ma mi sembra che neanche lei non nasconda andranno avanti con l'agenda Draghi lo ha detto a Cernobbio sicuramente l'avrà detto anche all'Aspen Institute sicuramente lo avrà detto anche a Mattarella lei ha voglia di governare perché sente che sia arrivato il suo momento ma per governare lei deve dare delle garanzie a quegli ambienti finanziari ai mercati ai poteri a Mattarella ecco questo è quello che lei farà agenda Draghi piano Colau quarta dose di vaccino green pass lockdown lei farà esattamente queste cose non mi sembra che ci sia una discontinuità rispetto al passato rimane però il fatto che c'è alle porte un autunno molto caldo in tutti i sensi sì perché ancora una volta non sono riusciti a risolvere i problemi e li demandano tutti ai cittadini perché il cittadino deve pagare delle bollette proibitive prima erano care adesso sono proibitive e nessuno gli dà una mano perché non interviene il governo perché il governo interviene sempre per favorire i più grandi i più grossi anche un po' i più prepotenti ecco io mi auguro che una volta per sempre il governo metta a disposizione non dei bonus ma delle politiche strutturali per fare in modo che il rincaro delle materie prime e dell'energia non crei le condizioni di disoccupazione crisi aziendali e chiusure perché un elettore dovrebbe votare l'Italexit perché noi rappresentiamo l'unica forza che partendo dal basso vuole rimanere nel basso pensiamo di rappresentare gli interessi di cittadini per bene che purtroppo sono schiacciati da decisioni prese da altri ambienti la multinazionale il potere finanziario è un potere che conta e esprime i suoi campioni Draghi era uno di questi il progetto recupera e respira è il primo dell'Unione Europea che invita i cittadini a portare in farmacia gli inalatori esauriti prodotti da qualsiasi azienda farmaceutica per la cura delle malattie respiratorie affinché siano raccolti e smaltiti in modo corretto è una iniziativa virtuosa promossa da Chiesi Italia che si avvale della collaborazione di Federpharma e della regione Friuli-Venezia-Giulia prima regione italiana ad aderire al progetto l'iniziativa volge alla neutralità carbonica entro il 2035 migliorando gli impatti dei processi aziendali e dei suoi prodotti sulle persone la biosfera e il territorio la raccolta degli inalatori esauriti coinvolgerà grazie alla collaborazione di Federpharma Friuli-Venezia-Giulia 408 farmacie territoriali della regione gli inalatori raccolti saranno poi inviati al termovalorizzatore certificato di Spilimbergo in provincia di Pordenone vediamo il progetto recupera e respira rende concreto il nuovo modello della farmacia dei servizi sì il progetto recupera e respira è un'opportunità per le farmacie del Friuli-Venezia-Giulia è un progetto innovativo a cui hanno aderito il 94% delle farmacie e questo denota la straordinaria la sensibilità dei colleghi a cui va il mio ringraziamento è un progetto che ci coinvolge su un tema particolarmente caro che è il tema dell'ambiente sempre più connesso col tema della salute la farmacia ha dato anche in questa emergenza sanitaria prova della sua capacità di offrire una risposta ai bisogni dei cittadini e questo progetto non va altro che ad amplificare quindi a sviluppare questo tema su nuovi temi e su nuovi settori l'iniziativa avvicina le farmacie del Friuli-Venezia-Giulia al prototipo di farmacia del futuro o farmacia europea green e sostenibile sicuramente è un tema per noi anche in qualche modo nuovo ma di grande attualità e di grande interesse l'adesione che le farmacie hanno dato è una dimostrazione di questo interesse ma anche di questa capacità di contatto e di sviluppare una comunicazione attiva con i cittadini al fine anche di promuovere stili di vita più sani e più corretti Qual è l'impegno di Chiesi Italia per il pianeta? L'impegno di Chiesi Italia per il pianeta fa parte di un impegno all'interno del gruppo Chiesi che fa parte di un piano strategico molto importante in cui l'obiettivo è diventare carbon neutral per i 20-35 quindi risolvendo quelle che sono le problematiche di emissioni dirette e indirette Perché è nato il progetto Recupera e Respira? Noi ci occupiamo di malattie respiratorie le malattie respiratorie molto spesso sono correlate anche alla qualità dell'aria che respiriamo e siamo convinti che questo progetto importante possa dare un contributo per migliorare la qualità dell'aria Il progetto è in partnership con Federpharma Perché avete scelto come partner le farmacie? È il luogo di dispensazione di ogni farmaco quindi è il luogo naturale dove il paziente il cittadino può trovare consiglio nell'utilizzo dei farmaci ma anche il consiglio per quanto riguarda il recupero e il fatto di riciclare tutti gli erogatori una volta che sono esauriti Un giorno al mese è di assenza retribuita per tutte le dipendenti che soffrono di mestruazioni dolorose è la decisione assunta dalla Ormesani azienda di spedizioni di Quarto Daltino in provincia di Venezia in assenza ancora di una legge che stabilisca questo diritto per le donne affette dalla patologia del ciclo doloroso di cui secondo alcune recenti stime soffrirebbero circa 3 milioni di donne in Italia il congedo mestruale verrà concesso con una formula basata sull'assoluta fiducia tra dipendente ed azienda le lavoratrici in sostanza non dovranno presentare alcun certificato medico ne sarà necessaria l'autorizzazione del responsabile dei reparti ciò in un'ottica di rispetto della privacy prima di istituire il congedo mestruale l'azienda ha spiegato l'amministratore delegato Martino Ormesani è stato fatto un sondaggio interno le donne dipendenti dell'azienda sono circa una cinquantina per loro Ormesani fornirà gratuitamente anche assorbenti distribuendoli nei bagni delle proprie sedi parliamo di Etra nel territorio di Etra i pozzi privati censiti servono 40 mila utenti eppure pescano tanta acqua quanta ne utilizza la multi utility per approvvigionare i suoi 600 mila utenti ed esistono moltissimi pozzi abusivi non solo i pozzi privati sono una porta aperta per inquinanti infiltrazioni e dal momento che prelevano dalla falda litri e litri di acqua in continua ne influenzano anche l'equilibrio compromettendone la portata e la sicurezza insomma c'è più di una ragione per contrastare il fenomeno dei pozzi privati diffuso nel territorio di Etra che comporta un utilizzo sproporzionato della risorsa e un rischio per le falde così spiega il presidente del consiglio di gestione di Etra Flavio Frasson per evitare gli sprechi è importante ricordare che sono obbligatorie la installazione di dispositivi per la regolazione d'acqua a getto continuo e la denuncia annuale del quantitativo prelevato prevediamo che per chi ancora utilizza il pozzo in un'area già servita importanti incentivi per allacciarsi i cittadini che si allacciano all'acquedotto e dismettono il pozzo possono accedere ad uno sconto di 2000 euro e poi avere uno sconto del 50% dei costi di allacciamento al 31 dicembre 2021 erano già state accolte 74 richieste con oltre 29 mila euro di contributi erogati veniamo al Musme il museo che c'è a Padova unico nel suo genere anche quest'anno si presenta domani pomeriggio alle ore 16 a tutti gli insegnanti interessati a scoprire le numerose tecnologie interattive e le proposte didattiche per l'anno scolastico 2023 scusatemi 2022-2023 tutti gli insegnanti partecipanti all'evento dopo la presentazione in aula verranno condotti all'interno del museo per una presentazione del percorso espositivo per la sua forte connotazione multimediale il Musme si rivolge a tutti proponendo un percorso espositivo che si adatta al visitatore ricordiamo che l'innovativo museo di storia della medicina di Padova appunto il Musme è stato inaugurato il 5 giugno 2015 all'interno dell'ex ospedale di San Francesco Grande primo ospedale Patavino attivo dal 1416 fino al 1789 e parliamo di costumi d'epoca il movimento degli appassionati dell'abito del costume d'epoca costituisce la cornice culturale della celebrazione che ormai da un anno avviene nel mese di settembre nel nome della giornata globale dell'abito e del costume d'epoca per il 2022 il giorno designato è il 18 di settembre che vede la compagnia degli anelli associazione che promuove l'iniziativa impegnata in un evento grandioso l'appuntamento sarà presso Villa Pisani Bolognese Scalabrin di Vescovana con il picnic colori d'autunno a favore dell'Istituto Oncologico Veneto un importante contributo allo svolgimento della ricorrenza verrà fornito dal concerto di Ars Musicalia dal ballo rinascimentale a cura dell'associazione Rosa Antico e dalla presenza di gentidame e cavalieri in abito d'epoca i figuranti porteranno i presenti in un viaggio alitroso nel tempo e potranno conoscere la storia della meravigliosa location situata come dicevamo a Vescovana in provincia di Padova attraverso una visita guidata si chiama Grandiol europeo cambiamento climatico a pedali lo spettacolo di Daniele Pernigotti che si terra sabato 17 settembre alle ore 18 al museo Esapolis in via dei Colli 28 a Padova per celebrare la settimana europea della mobilità sostenibile si tratta di una conferenza spettacolo accompagnata da momenti musicali e alimentata da una bicicletta come generatore di energia la settimana europea della mobilità sostenibile si tiene in tutta Europa dal 16 di settembre al 22 di settembre con lo scopo di impegnare la cittadinanza sulla strada della sostenibilità e del miglioramento della qualità della vita nelle nostre città Daniele Pernigotti è scienziato giornalista e scrittore e si occupa da sempre di conferenze mondiali sul clima sono passati otto anni dalla morte di Don Carlo Onorini ex parroco di Casso che fu un testimone diretto della tragedia del Vaillant la sera del 9 ottobre 1963 e il storico cappellano del carcere Baldenich di Belluno oltre a essere cappellano della chiesa di San Rocco il ricordo è ancora vivo da parte di Giovanni Ghiliamovic presidente del comitato di Belluno dell'associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia non ti dimenticheremo mai anche perché sei sempre stato presente in tutte le nostre iniziative sono le parole ovviamente dell'amico Giovanni proprio in ricordo di Don Carlo sarà celebrata anche una santa messa nella chiesa di Loreto a Belluno giovedì 15 settembre alle ore 18 bene è tutto per questa nostra edizione del giornale grazie per averci seguito vi diamo appuntamento come sempre alle prossime edizioni ma vi invito a rimanere sempre con noi collegati attraverso il nostro sito www.caffetv24.it 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 Hughisch.it Grazie.